la Germania ha vinto e in quest'altro schermino a fianco vedete Vanna Marchi e Stefania Nobile che ci danno la buonanotte così iscrivetevi al canale se vi va allora dopo il gol della Germania possiamo andare a dormire? a me sinceramente del calcio non me ne può pregare di meno però siamo europei dai ados 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 alessonata io ho strinato un galletto che gli han tirato il collo tipo capone io l'ubriaca e sono bevuto una canina